Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlandovi di Nintendo e di Super Smash Bros per Wii U. Se lo ricordate, qualche mese fa il game designer Masahiro Sakurai annunciò in un Nintendo Direct la presenza di una modalità esclusiva per la versione 3DS, ossia avventura Smash. Da allora i fan hanno tanto sperato che questo avvenisse anche per la versione Wii U e sembra che siamo vicini al momento della verità. Infatti il game designer ha recentemente pubblicato delle immagini che sembrerebbero suggerire la presenza di ben due modalità esclusive per la versione Wii U. E naturalmente noi vi daremo tutte le notizie al riguardo appena disponibili. Sony ha finalmente confermato i rumor della settimana scorsa annunciando un bundle per GTA V e PlayStation 4. La console sarà acquistabile anche nel formato bianco così come era già successo con Destiny ma ancora non abbiamo notizie ufficiali sul prezzo. E passiamo a CD Projekt Red che ha annunciato che durante la cerimonia dei Golden Joystick Award che si terrà il 24 ottobre verrà mostrato per la prima volta il filmato di apertura di The Witcher 3 e si chiamerà The Trail. L'evento ci darà modo quindi di vedere più da vicino uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Gli sviluppatori ci hanno anche tenuto a sottolineare il fatto che le console di nuova generazione li hanno veramente aiutati perché gli hanno permesso di realizzare la loro visione di un gioco open world che sarebbe stata assolutamente irrealizzabile sulle piattaforme di vecchia generazione. Microsoft e 343 Industries hanno annunciato lo sviluppo del seguito ufficiale di Halo Spartan Assault. Si chiamerà Halo Spartan Strike e uscirà il 14 dicembre sulle stesse piattaforme, ossia Windows Phone e PC e Steam. Garantirà una varietà di livelli più ampia e gli avvenimenti saranno collocati grossomodo durante quelli di Halo 2. Sarà disponibile al prezzo di 6 dollari e possiamo naturalmente aspettarci il fatto che dopo poco venga annunciato un porting per Xbox 360 ed Xbox One. Il 6 e il 7 dicembre Sony terrà a Las Vegas il PlayStation Experience, un evento espressamente dedicato a tutte le novità per la piattaforma, soprattutto quella next gen. Secondo i rumor circolati negli ultimi giorni all'evento dovrebbe essere presentato un grandissimo annuncio, un'esclusiva che è stata definita sorprendente dagli addetti ai lavori e che dovrebbe essere in grado di fare concorrenza all'esclusiva temporale acquistata da Microsoft per Xbox One relativa a Rise of the Tomb Raider. Naturalmente non vediamo l'ora di sapere di cosa si tratta. Il noto giornalista e presentatore videoludico Geoff Kigley ha twittato negli scorsi giorni un'immagine contenente la scritta Games Will Rise e la data del 5 dicembre. Si riferisce naturalmente alla nuova edizione dei Videogame Award di Spike TV che speriamo possano tornare in una versione inedita rispetto a quella davvero deludente dello scorso anno. Naturalmente nei prossimi giorni seguiranno tutte le informazioni e noi ve le daremo di prima mano. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Nintendo. La casa ha infatti commercializzato ufficialmente la nuova console New Nintendo 3DS in Giappone piazzando già ben 233.000 console soltanto nel primo weekend di vendita. Ne ha beneficiato anche Capcom che con i due modelli personalizzati dedicati a Monster Hunter 4G ha già piazzato un milione e mezzo di copie. Il flop della settimana va invece a Sony. Ci sono infatti ancora problemi sul PlayStation Network che non permettono agli utenti di effettuare il login e conseguentemente di godere dei servizi della piattaforma. Dato che problemi simili si sono già verificati più volte in passato, a fronte del pagamento di un abbonamento ormai necessario per godere dei servizi online speravamo sinceramente in un supporto migliore per le infrastrutture. Naturalmente gli ingegneri di Sony si dicono al lavoro per risolvere la situazione il più in fretta possibile. Noi cercheremo di tenervi aggiornati. E con questa notizia anche per oggi era tutto. Noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo martedì. Ciao!